E' un nuovo video travolgente di prima Ne sono rimasti solo tre della palestra Oxygen Potrei dire i migliori ma non mi sbilancio Sarete voi a farlo capire al pubblico da casa Con la vostra voce Forse meglio Parlaci nel microfono Mary Fallo alzare il microfono Mary Con le mani Come fai sempre il microfono? Come si alza il microfono Mary? Di solito non domanda Prova a girarlo Si sente? Per il giro lo dimostra? No Poco Poco Molto poco Siete stati troppo travolgenti Prima Sì Non funziona più niente Sono sotto shock Sì Lei si sente? Sì Prova Prova di nuovo Vediamo Sì Prova Sì Dai si sente Si sente Sei egocentrico Guarda che la ragazza ci prova Attenzione Cameretta Come la guardi? Attenzione che col capello da sombrero I baffetti da sparviero Cameretta È un attimo che ti porta nella sua cameretta Ma il discorso di cameretta Per che motivo? Lavori in un mobilificio? No Perché rifaccio cameretta Per i bambini Non è vero Non è vero Non è vero È perché ha 28 anni Sì Invece di pensare di andare a vivere da solo Sì Si è rifatto la cameretta sua Perfetto Fantastico Si vede che sta bene a casa, no? Esatto Perché cambiare quando uno sta bene, no? Sono d'accordo Sei d'accordo? Bravo, bravo, cameretta Ok Cameretta, poi mi presenti la nostra Mary? Bella Mary Perché la guardi all'altezza del pittorali? No, non lo so Lei è diventata famosa per questo stasera la Mary, giusto? No, la Mary è diventata famosa per la sua voce Per la sua voce Fantastica È la musa ispiratrice della palestra Ok, perfetto È the voice dell'Oxygen Ok Mentre la ragazza con cui ci stavi provando prima L'ho conosciuta prima lì in sala Una trovatella Eccola Una trovatella Ma solo per caso il cameretta ha detto Guarda che ti ho Che fai? Alzi la mano? Sì O è Raffaele a scellare? No, perché l'unico che canta veramente bene è lui Ah, è il cameretta Sì, fai modesto Sì, è ripilata sotto Sì, è ripilata La cameretta fa anche funzioni da dedorante Così, perfetto Quindi ci siamo La trovatella, la cameretta e la nostra Mary Perfetto Cominciamo La trovatella La trovatella Se ti occorre una cameretta vai da lui Ok, partiamo, partiamo, partiamo Sì, è ripilata Sì, è ripilata La trovatella Ma adesso Oggi Inzende E la Vesco La trovatella La trovatella E la trovatella Vesco E truccate Anni sessanta Girano in centro Sfiorando i neomanta Rosse di fuoco Pinza alla danza In frecce con dietro Attaccata una targa Dammi una speccia All'estate che avanza Dammi una Vespa E ti porto in vacanza Quando è bello andare in giro Con le ali sotto i piedi C'è una Vespa special che Mi toglie i problemi Quando è bello andare in giro Per i ricolli Volo in giro C'è una Vespa special che Mi toglie i problemi La scuola non va Ma una Vespa Una donna non ho Ho una Vespa Domenico Vespa E una Vespa Mi porterà Mi porterà Fuori città Fuori città Fuori città Fuori città Dalla mia stanza Dalla mia stanza A parte In granale Dalla prima Alla quarta Fuori città Devo andare una festa Fammi fare un giro Prima sulla mia Vespa Dammi una speccia All'estate che avanza Dammi una Vespa E ti porto in vacanza E ti porto in vacanza E ti porto in vacanza Dalla mia Vespa E ti porto in vacanza 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 Fuori città Fuori città Buona, buona, buona Bravissimi ragazzi Mi era sembrato di capire come qualcuno vi desiderava da fuori però non so sicuro proprio appena appena però va bene dai salutiamo il pubblico da casa Ciao ragazzi Una foto? Aspetta Vi faccio anche la foto Aspetta Vuole il video La foto Vuole tutto Ecco Vi faccio la foto Così da prendere poi da prendere in cameretta direi Eccoli qua Fantastici Eccoli qua Fantastici Così aspetta che c'è il microfono davanti proprio Così Bravissimi Fatta, fatta E I grandi saluti per la nostra Mary Il nostro cameretta La Trovatella Ciao Ciao Grazie a tutti.